Noi impariamo a essere umani, cioè noi in fondo impariamo ad essere un io. Cioè non solo non diamo per scontato l'io della scienza, che poi è anche il medesimo io, per esempio, della politica, intesa come intesa in questo mondo. Anche lì l'io non viene mai messo in questione, no? Infatti si vede che casino poi fanno, no? Perché? Perché dare per scontato l'io è pericolosissimo, come vediamo. Quindi, perché nascono le scuole iniziatiche? Questo processo lo si può definire in molti modi. Oggi lo vorrei descrivere come una scuola. Noi cerchiamo di imparare che cosa vuol dire essere umani. perché, diciamo, il punto di partenza di questa particolare scuola, che non è solo darsi pace, noi apparteniamo ad una famiglia di scuole che sono esistite in tutta la storia antropologica, in forme evidentemente diverse, a seconda dei tempi e dei luoghi, cioè anche delle culture, delle tradizioni, ma sostanzialmente noi apparteniamo ad una categoria di scuola che potremmo definire iniziatica. A questo punto, no? Noi gettiamo nel campo della riflessione questo aggettivo fin dal primo incontro, dicendo, quando incominciamo a dire che noi cerchiamo una conoscenza iniziatica delle cose e spieghiamo che la conoscenza iniziatica si differenzia da altre forme di conoscenza, come per esempio quella scientifica, per un motivo particolare, quello che sto dicendo, cioè la conoscenza iniziatica è una ricerca conoscitiva sul soggetto che conosce, mentre per esempio la scienza, per fare un esempio a tutti noto, in tutte le sue forme, quindi la scienza empirica, ma anche la scienza storiografica, le cosiddette scienze umane, la sociologia, anche in fondo la psicologia, la psicologia è ai confini, dipende come la vivi, però insomma le scienze, quelle che sono fiorite nella modernità occidentale, sono focalizzate su un oggetto che studiano. La biologia è il logos, logia, del bios, cioè della vita, e si intende una determinata metodica conoscitiva, che poi si radica evidentemente nel metodo galileiano, insomma, per capirci, quindi nello studio di un oggetto, in questo caso il bios inteso in un certo modo, la antropologia idem, studia l'antropos, l'uomo ma inteso come oggetto, la fisica studia la physis, cioè la natura, come oggetto. Quindi tutte queste grandi vie conoscitive si focalizzano sull'oggetto e loro danno per presupposto il soggetto, cioè non si pongono la domanda ma chi è colui che conosce? Mi capite? Cioè partono a conoscere, si mettono a conoscere, ma non si interrogano, ma quest'essere che conosce, che si mette al microscopio, che inventa il metodo galileiano, chi è? Chi è il soggetto? E questo atto conoscitivo che si dà, che dà come presupposto che esista un soggetto, che questo soggetto possa conoscere, che il suo conoscere abbia un fondamento, cioè conosca un qualcosa che comunque è vero, perché se no che conosce a fa? No? Vuole accertare una verità. Tutto questo non è argomento di riflessione. Viene dato per scontato. Loro non lo sanno nemmeno quante cose danno per scontato, tranne alcuni scienziati particolarmente filosofici, che queste cose invece se le sono anche chieste. Però non è compito della biologia interrogarsi su chi sia il soggetto biologo, non la persona esistenziale, ma l'io che studia biologia e quindi i fondamenti della conoscenza biologica. Capite? Ecco, la conoscenza iniziatica, quella di cui qui facciamo scuola, è proprio diversa da questo punto di vista, cioè non ha un oggetto, si potrebbe dire, perché non si può nemmeno dire che il soggetto diventi oggetto, perché non è possibile. Cioè, l'io non può mai essere oggetto, perché è soggetto. Appena ne fa un oggetto non è più l'io, diventa un'altra cosa, diventa un oggetto. Capite? Quindi non è che la conoscenza iniziatica ha come oggetto il soggetto, no, non ha oggetto. È una conoscenza inoggettiva. è una conoscenza come processo trasformativo. Quindi, noi conosciamo noi stessi non come oggetto, ma come un processo in trasformazione, e quindi come qualcosa che non può mai diventare un oggetto posseduto da un soggetto, perché è proprio il soggetto che è posto in mutazione e si scopre come mutamento, si scopre come continuo mutamento, come flusso, come metamorfosi. Questa è la scuola iniziatica in cui noi siamo qui, diciamo, convocati. e quindi dicevamo noi impariamo a essere umani, cioè noi in fondo impariamo ad essere un io. Cioè non solo non diamo per scontato l'io della scienza, che poi è anche il medesimo io, per esempio, della politica intesa come intesa in questo mondo. anche lì l'io non viene mai messo in questione, no? Questi politici si incontrano e non è che si chiedono ma chi sei tu che stai a fare? Perché tu sei di sinistra, quella è di destra? Chi è quest'io che diventa di sinistra, di destra, no? Che prende queste attribuzioni? Ma chi è questo qua? Questo soggetto io che poi io dico io, io sono fascista, lei dice io sono comunista, ma è sempre io. chi è se io? Quest'io così mutevole? Questo la politica non ne fa questione, no? Dà per scontato che l'io sia qualcosa di ovvio da lei. Infatti si vede che casino poi fanno, no? Perché? Perché dare per scontato l'io è pericolosissimo, come vediamo. Quindi perché nascono le scuole iniziatiche? le scuole iniziatiche, tutte, ripeto, poi noi siamo una scuola iniziatica cristiana che quindi assume determinate caratteristiche che sono proprie dell'iniziazione di Cristo. Però anche le scuole non cristiane iniziatiche hanno questo stesso diciamo campo d'azione, cioè dell'io anche se hanno diverse modalità, diverse visioni dell'io e pratiche di realizzazione dell'io. Ma comunque tutte perché nascono? Nascono perché l'io che incontra l'iniziato, quindi l'io che noi chiamiamo ordinario, quell'io che appunto fa politica senza farsi domande o fa scienza senza farsi domande, quell'io che viene usato, quell'io inconscio, inconsapevole di sé, che abita questo mondo, questo io iniziato, iniziatico, iniziando, incomincia a capire o capisce attraverso eventi del destino che la sua condizione ordinaria è intollerabile, è insopportabile. Normalmente si entra in una scuola iniziatica per, direi, insofferenza, perché si intuisce in qualche modo che il mio modo, il mio io in questo mondo si trova in una condizione infernale, in una condizione di dolore terribile, insopportabile. Ecco perché uno entra in una scuola iniziatica, perché a quel punto incominciano finalmente, direi, a sorgere queste domande. Ma chi è quest'io? Chi sono io che soffro come un cane? E questa sofferenza così insopportabile che a quel punto mi appare evidente, c'era pure prima, ma prima ero come un po' nubilato, confuso, mi incomincia ad apparire e incomincio a guardarmi intorno a vedere tutte queste entità umane che vivono in questa maniera così inconscia malissimo però, stando malissimo, creando un mondo orribile il più delle volte orrendo, brutto, ma brutto tanto brutto, pieno di violenza, piena di stupidità, pieno di ignoranza, di arroganza. C'è un cacchio di altro modo di essere umani? Di vivere? E lì se è fortunato ed è anche tenace prima o poi incontra una scuola iniziatica. e la scuola iniziatica.